Ciao bellissimi, sono Crax, bentornati su Clash Royale, siamo già in partita, questo video è il primo dell'anno, buon capodanno a tutti quanti, bisogna cominciare bene l'anno E infatti Crax ha beccato live tra i suoi amici, Oyasu, giocare partite a 2800 medagliette, fiocchetti Quindi instant, andiamo a vedere che cosa combina, se arriverà a 3000, non lo so, seguite il video Queste sono partite veramente top, tra l'altro che magari potranno non andare neanche online, private Vediamo effettivamente come si vince e si perde con il 2.6 a queste medagliette Vi chiedo un like per iniziare bene l'anno, se non lasciate like, due matematica per tutto l'anno Iscrivetevi, campanella e codice Crax, Oyasu lo trovate in descrizione, sono bello carico E se becca subito un deck con gigante elettrico, tornado fulmine, abbastanza tosto probabilmente i counter C'ha pure la struttura, la gabbia, difficile da gestire, però lui ha il 2.6 classico Con il congelino e sapete che Oyasu è capace di fare qualsiasi cosa con questo deck Occhi al domatore, con un log prova a fare ship damage Cannone posizionato per difendere il gigante elettrico Arriva la fulmine da parte dell'avversario per togliere il moschettiere Riesce a difendere tutto, fireball per i danni Deve cercare di non fare entrare nulla Mette degli scheletrini per deviare domatore Per girare tutte quante le truppe Incredibile che entro in partita, ma becco una partita del genere 1.951, 23 secondi Il moschettiere ha tolto il mago del ghiaccio, non ci voglio, crede? Congelino che frizza il log per fare ship damage L'avversario c'ha una fulmine che può fare un sacco di danni Devia le truppe sulla sinistra 1.600 a 1.700 Tornato 1.659 Basta tirare un log Fireball Mamma mia ragazzi, entri in partita e te becchi Un deck counter massacrato da Oyasu Purtroppo non abbiamo visto tutta quanta la partita Ma sicuramente farà altri match Seguite il video, medagliette che non vi fa vedere Ma in realtà Oyasu stava giocando Proprio se vedeva nei momenti in cui si caricava la partita È già ripartito, 2834 Le sue medagliette, 225 Tra l'altro c'è pure Sova Non so se partirà Sova a 3.000 Sta messo benissimo Altro match, 2008 contro 2865 Quindi se vince sono circa 33 Medagliette e una roba del genere Se riusciamo ne reagiamo altre tre di partite Poi dipende se sta giocando Se sta farmando Non lo so Domatore Quindi questo vi fa capire che il 2.6 Worka È un buon deck Possono fare qualsiasi tipo di bilanciamento Ma tanto il 2.6 è un anti-meta per eccellenza Funzionerà sempre Certo, se il domatore non interabili le strutture A quel punto l'è ammazzato Come hanno fatto un po' con la furia Chissà se tornerà la furia Io lo spero Spero tantissimo di vedere magari uno spiritello furia Che a quel punto si può utilizzare al posto del congelino Tante situazioni particolari Il mini pecca viene tolto L'avversario ha un deck Tornado Principe Nero Che è una cimitero particolare Oppure Gigante Royale Non lo so Non mi è mai capitato una roba del genere Ovviamente non sono mai stato a quei livelli lì Pure gigante Doppi principi Tornado Fenice Che me sto a perdere Boh Non lo so ragazzi Sto totalmente fuori predict Il mago di Ghiaccio Ultimamente lo vedo parecchio utilizzato La gente frizza forte Guardate i cambi di lane Do Yassu Cioè Destra-sinistra Non è predictabile Occhio Grossa difesa Quegli scheletrini La Fenice Non è stata targhettata Forse anche meglio Così che poi L'arciere può tranquillamente Colpire l'ovetto In tutto questo delirio iniziale O Yassu Non ha preso Neanche un colpo a torre Le difese sono perfette I push sono Perfetti Super ottimizzati Non si sbaglia niente È come Fare cruciverba Con le soluzioni Alla fine del libretto La stessa cosa Uguale Buona quella Tornado Per l'avversario Però certo Ha consumato tanto Mini Pekka Buona la fulmine Riesce con il congelino Credo a fermare Il Mini Pekka Il Mini Pekka non hitta Mago di Ghiaccio Al ponte per rallentare subito Il dovatore cambia subito Rain Sulla parte di sinistra Dovrebbe passare Perché non ha la Tornado Hit per lui Mago di Ghiaccio Fermato dal moschettiere Prenderà qualche danno Tirare la loggata Per fare danni a torre Ed evitare la carica Del Principe Nero Una Fenice Posizionata direttamente Sul moschettiere Che roba manca All'avversario Che è gigante elettrico Fireball maestosa Ragazzi Se riesce a tirare la letta Impazzesco Ovetto che consenta La Fenice Di ripoppare Oyasu Se ne frega Log easy Invece Golem Un deck pesantissimo Quello dell'avversario Che ha perso 7,3 di Elisir Oyasu 0,4 Elisir perso Cioè Qualsiasi Goccetta Delisir È centellinata Non puoi sbagliare niente È una cosa Come difende Con il log Sposta il Golem Sulla parte di destra E toglie lo shield Al Principe Nero Il Golem È stato praticamente Massacrato Ah Beh Comunque l'avversario Ha tirato una grande fulmine Però Oyasu Voleva già portare La roba dell'avversario Sulla parte di destra E colpirla Con un moschettiere Che andava sulla destra Quella è una cosa Che io non faccio Quindi GG L'ovetto Dovrebbe subire danni Ottimo Il Domatore Una hit La porta a casa Difenderà credo Con dei semplici Scheletrini Invece posiziona subito Il cannone Probabilmente Per ciclarne due Prova a fare un predict Moschettiere Totalmente spostato Golem Che con il log Riesce L'avversario Comunque mette Il Golem Bene Che non va Sul cannone Quello lontano Però Oyasu C'ha un controllo Delle carte Ma una precisione Veramente È spettacolare Da vedere Vi giuro Potrei stare qui Tutto il pomeriggio A guardare le partite Che sta facendo Meraviglioso Toglie tutto 1900 La parte di sinistra Aia Ho visto Live Oyasu Miss click Di cliccare Vi dico solo Questo Ho visto Un miss click Da parte Di Oyasu Buona La fulmine Deve difendere Secondo me Ce la può fare Certo La sinistra È un po' Un problema Mamma mia Molto in difficoltà Metto un domatore Per portare indietro Tutte quante le truppe Occhio Non ci C'è riuscito 6 secondi Il log Scusate Questo è il primo video Dell'anno Non è che se parte a bomba Quello che viene dopo È riuscito a vincere E a difendere Un push Fatto di golem Che Se sbaglia la difesa Sul golem Il golem ti entra Ma non è che ha sbagliato la difesa Ha proprio buttato La struttura La carta più importante Difensiva Tra l'altro è già ripartito 3 di Elisir In un posto Che non serviva a nulla Mamma mia Clash Royale A questi livelli Ma che ve lo dica fa Cannone Scheletreni Cannone posizionato subito Stretto a sinistra Per difendere Il tank Che verrà messo davanti Alla sparchi Che potrebbe essere Un gigante goblin Oppure un gigante normale L'avversario non ha messo niente Ed era carico del Elisir So perché Magari perché c'è la zap Non ne ho idea Riesce a difendere Il gigante goblin Domatore che parte subito Cacciatore Hit per il domatore Dovrebbe essere una singola hit Non una doppia Perché poi ci stanno pure i goblinini Che tirano un sacco di lance Ora lui deve difendere Il gigante goblin Con un cannone messo lontano Buona la fulmine Dell'avversario Però Yasu C'ha una precisione Non vedete Delle combo Fatte dagli avversari Dove con la fulmine Prende tutto No 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 Lui splitta tutto Lui già prevede tutto quanto Il moschetti resta Io l'avrei messo vicino Danni incredibili Comunque in vantaggio Di mille Per quanto riguarda le torri Potrebbe arrivare a 2900 coppe Yasu Coppe, trofei Medagliette Chiamatele come vi pare Servirà un altro match Magari lo vedremo insieme Loggetto tattico Poi vedremo pure Il posizionamento finale E anche quello De Sova Come sta messo Buona quella hit De Moschettiere De Moschettiere De Domatore Moschettiere adesso Posizionato Infatti io già pensavo Era avanti con I calcoli Occhio a quello vetto Che non dovrebbe poppare Ma anche se poppa Il Moschettiere è posizionato 2000 la torre L'avversario si Esatto Porterà avanti Con Una spark Che arriva la hit Mardomatore Non hit A sottotorre E ora Gustiamoci la difesa Cioè lui deve mettere Il cannone vicino alla torre Per evitare switch particolari Giusto Lo mette comunque staccato Per evitare la fulmine Capite perché Grax Non sta a 3000 E Uyassu Ci sta E tutti i pro player Ci stanno Se Avessi messo io Il cannone vicino Con la fulmine Puliva tutto Giusto Se l'avversario Avesse avuto Una fireball O qualsiasi altra spell Si poteva fare Eh ragazzi Qui Fireball Particolare Per andare a fare Ship damage Fulmine Lui comunque Stacca il cannone Mamma mia Che overpredict Cioè qui Non sono ammessi Errori Di Sorpresa Del deck Dell'avversario Tu quando giochi un match Devi calcolare tutto E questa è una cosa Che faccio anch'io Cioè Iniziare a tirare Le fireball Perché poi ti ritrovi Fireball e log Pulisci tutto quello Che sta dietro Al gigantone Il gigante Calcola il cannone Mette degli scheletrini Per fermare il principe nero Che spettacolo Che spettacolo regà Occhio alla fulmine La spark Che è fireballabile Comunque stanno messi Molto bene Tutti e due 1600 La torre d'Oiasu 1450 Quella dell'avversario Come fate a non seguire Oiasu Se vi piace Il 2.6 Io ve lo chiedo Moschettiere Molto posizionato Molto posizionato Per prendere E qui E qui è dove cado Noi crax Ditemi che l'avete visto Regà Ditemi che l'avete visto Vi prego Ditemelo Probabilmente L'ha vinta Con quella giocata Secondo me Vi prego Ditemi Che avete visto Quello che ha combinato Con il domatore E lo switch Con lo spiritello Sulla spark Però non è detto Che l'ha vinta Perché l'avversario Sta giocando molto bene Altro push pazzesco Scheletrini Deve partire Probabilmente Con un domatore Per fare qualche danno Buona la fumina L'avversario L'ha colpita La torre Sbaglio Comunque situazione Criptica 26 secondi 500 Deve difendere E tirare Fireball Credo Fireball che parte Cannone posizionato Tira all'oghetto Eccola C'è Ho reattato A tre partite Fuori di testa Ma come fai A leghe basse Queste partite Ti capitano Una volta Ogni Dieci match Ogni match E' così Ma te scoppia il cuore Come fai a fare partite Una dopo l'altra Ojasu 177 2900 Metagliette Che ve lo dica fa E' uscito fuori Un video Pazzesco C'è Sova A cui mando Un grande abbraccio 97 Con 3000 Metagliette E poi c'è sta Grax Con circa 1700 Ma se andiamo Sulle classifiche Stardust 3003 Sotto c'è un Anaban Classico Con Due account C'è pure Jan Ottavo E sta giocando Con Un 2.8 Vecchio stile L'ultimissima Guardo L'ultimissima Contro Itachi E poi dopo Ci salutiamo E vi auguro A tutti quanti Un buon capodanno Un buon inizio Anno Con tanti buoni Propositi L'avversario potrebbe essere Bono Queer Pecca Come fai a non iniziare L'anno Con un Good Death Pecca Ariete da battaglia Difeso Senza problemi Il barbarella Andrà giù L'avversario C'è Pecca Oppure potrebbe essere Quella variante Di bridge spam Senza Pecca Potrebbe Come difende La bandit Con degli Scheletrini Robbe Non lo so Regà Ha messo un po' A triangolo Un po' Tutto Riparte col domatore Assolutamente Sì L'avversario Deve tirare Il log Il pecca C'è Hit del domatore Non ti sbagli Il pecca Subisce parecchio Arriva circa La metà Della vita Si avvicina Utilizzerà Cioè Se tu Metti Lo spiritello Non a metà Ma una piastrella Più a destra Comunque lo spiritello Aggancia il pecca So Tutte quelle cose Che fanno la differenza E ti consentono Magari di cambiare Carte per difendere Pazzesco ragazzi Mette degli scheletrini Sempre sulla parte di sinistra Così che la Bandit Non causi problemi Ha il cannone Probabilmente l'utilizza Fa schiantare tutti quanti i barbarelli E si ritrova il golem del ghiaccio Ad utilizzare magari con il domatore Sulla parte di sinistra Non mette il domatore Attende Credo Se ha vinto le partite precedenti Questa partita Ojasu se la mangia Solo Grax Perde contro il pecca Buona la fireball Toglie il magarcere Fa danni alla torre Comunque switch Switch di lane Che ti devo dire Ci vuole un bel coraggio Io sono sempre Molto poco predisposto Per gli switch di lane Golem del ghiaccio Difende tutta Ha portato la torre A 3100 L'avversario Dove mettere il pecca Lo metti destra Sinistra Mette la bandit Aspetta Domatore che parte il lane Opposite Domatore che va su torre Una hit la tira Perché l'avversario Ha messo benissimo Il pecca E la difesa è sempre Scheletrini Questa volta Non li mette Nella parte destra Perché magari Non aveva nulla Per difendere Poteva prendersi Una catena Sul moschettiere Occhio Grosso Fireball predict Dell'avversario Buone log Dovrebbe andare giù Non dovrebbe connettere Ci ha messo il cannone Cioè Stavolmente veloce Che Neanche l'avevo Capito Ci ha messo il cannonetto Quello Si attiva Il moschettiere Tira delle hit Il congelino Arrivato un po' In ritardo Comunque sta facendo Un grande pressing L'avversario Questo bisogna dirlo Occhio Al fantasma Dovrebbe andare giù Quegli scheletrini Cannone che non devi Attenzione Attenzione Il match Quello più semplice Vedono gli asso In difficoltà Ma sono pari 2002 a 2002 E ora sa Qual è la lane Che vuole pushare Gli asso Ovvero quella di destra Quindi il pecca Automaticamente Viene messo in quella posizione Tutto quanto Body bloccato Non è arrivato nessun danno Sulla torre di destra Ariete dal back Abbiamo beccato Un player De Pecca bridge spam Di un certo calibro Eh Tolto il fantasma È stata quasi una cosa Fortunata Buono quel predict Di fireball Arrivato leggermente In ritardo Non è riuscito A predictare Il cannone bene E così da Far rittare Far continuare La rush Della riete 1800 alla destra Grosso stun Della bandit Sulla parte di destra Il moschettiere ancora vivo Piazza un fantasma Al ponte Il moschettiere dietro Riesce a togliere il fantasma L'avversario così È stato un po' stunnato Comunque Pecca Cambia lane A un minuto A un minuto dalla fine Il cambio lane Per costringerlo A sprecare Lissiri In difesa Fireball Clean Sul Mago arciere E le due torri Sono a 1800 Ragazzi Non Non ce la farò mai Guardate C'è proprio il primo Dell'anno Partiamo subito Col morale Sotto terra Non è possibile Giocare così Non si può fare Stun The bandit Sul domatore Per attutire Salva il moschettiere Per poi ripusciare La parte di sinistra Non si può fare Sono sincero Non si può fare Toglie il magarciere Moschettiere Se la stanno giocando Probabilmente arriveranno Delle fireball Decisive Il magarciere Deve essere difeso Parte il domatore L'avversario Mette il pecca La messa in ritardo Hit del domatore 1.2 Cannone per togliere Il magarciere 16 secondi E per celebrare Ve lo dico Queste partite Assurde Predict Sul cannone Di Oyasu Che ne porta A casa 4 Chapeau Veramente Chapeau Grax Vi fate le girate Di stendardo Nella speranza Di trovare Quello Che voglio Trovare Ovvero Il principe Andiamo subito C'è Vago Ovviamente il cash Perché non c'ho Le gemme Perché non c'ho Le token Damme quello E mi ha dato quello Meno raro di tutti Ne mancano 3 Io provo un'altra volta Te prego Il principe Il principe 1 su 3 Il re schiaccianoci Il più brutto Gli altri due Sicuramente bisognerà farli tutti e due Perché lo sfondo è molto carino Li faremo Nel test Della sfida Che arriverà domani Io ve la butto là Buon capodanno a tutti quanti Like Iscrizione Campanella Codice Grax Alla fine dello shop Soprattutto se shoppate il passo Inseritelo prima Bacio di giganti Ciao belli Ciao ciao Grazie a tutti